Manuelita ci avviciniamo sempre più al 26 di febbraio, un giorno storico per tutti noi ma soprattutto per quei migranti che hanno perso parenti e che hanno vissuto questo dramma del naufragio. Voi avete organizzato diversi momenti, tutto pronto? Sì, tutto pronto e effettivamente si avvicina un giorno che è un giorno doloroso per noi che abbiamo vissuto quei momenti come operatori del sociale ma soprattutto per i familiari e per i superstiti del naufragio. Noi come Rete 26 febbraio abbiamo deciso di organizzare una serie di eventi proprio per permettere alla diversità di organismi che compongono la rete di poter fare qualcosa, di poter partecipare e di poter anche proporre delle iniziative. Quindi su tre giorni ci saranno diversi momenti dedicati a ricorda, alla commemorazione ma soprattutto alla denuncia di quello che non è andato bene, di quello che continua a non andare bene sulle politiche migratorie che sono miopi e disumane e che non tengono conto della dignità degli esseri umani e del rispetto dei diritti. Ci sarà anche una marcia? Sì, ci sarà anche una marcia nel momento clou degli eventi che sarà domenica pomeriggio, domenica 25, si partirà alle 15 da Piazzale Nettuno e poi si arriverà con una sosta davanti al Pallamilone e poi è il momento finale per il dibattito. Chi saranno gli ospiti di questa iniziativa? Soprattutto i familiari e i superstiti, è coloro che abbiamo disegnato queste iniziative, è coloro che le abbiamo organizzate, sono loro che abbiamo messo in prima fila, quindi torneranno tantissimi familiari, torneranno anche i superstiti, non tutti perché ancora alcuni hanno problemi con i documenti. Ci sarà poi tutta la rete 26 febbraio, composta da più di 400 organizzazioni e attivisti e abbiamo avuto notizia anche di eventuali partecipazioni di personalità, sia personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, ma anche politici. E il 26 che è la giornata dedicata proprio a loro, quale sarà l'evento? Il 26 all'alba saremo sulla spiaggia di Steccato di Cutro, proprio nel momento in cui il naufragio è avvenuto. Ci sembrava importante questo momento simbolico e significativo, è qualcosa che insieme agli amici della redazione di Crotone News avevamo già fatto a sei mesi dal naufragio e che vogliamo ripetere a un anno dallo stesso, perché insieme ai familiari, insieme ai superstiti saremo lì con questa fiaccolata simbolica in memoria delle tante persone morte e dei tanti che ancora sono anche dispersi.